Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul canale di Jored. Prima di proseguire con il video vi invito di mettere like al video e se vi va potete iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti. Iniziamo. Durante l'esibizione della cantante in gara Angelina Mango è successo un piccolo imprevisto, già virale sul web. Angelina mentre cantava la sua canzone, la noia, è caduta in cima alle scale, mentre risaliva sul palco. Inutile dire che subito dopo l'esibizione, il presentatore Amadeus è subito corso ad accertarsi che fosse tutto a posto. State tranquilli l'esibizione non è stata rovinata da questo piccolo imprevisto. Angelina Mango è riuscita comunque portare a termine una splendida esibizione. Per il momento ho concluso questo. Piccolo video news, un grosso abbraccio alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.